incidente in via solferino quattro i feriti e i veicoli coinvolti nello scontro crisi del settore trasporti anche a pesaro i tassisti scendono in piazza lavori alla rotatoria di loreto malumori tra i commercianti riaprono domani musei in città al via la mostra dantesca la fondazione pescheria buona serata questa è l'edizione di giovedì 29 aprile del nostro telegiornale questa sera in apertura parliamo della cronaca perché questa mattina le 9 30 in via solferino in corrispondenza del distributore di benzina oil one si è verificato un grande incidente quattro i mezzi interessati dal sinistro stradale così come quattro sono stati feriti provocati dallo schianto delle vetture una coppia di coniugi residenti a valle foglia un 65enne pesarese e infine un 61enne di pian di meleto il leso è invece l'uomo alla guida dell'ultima auto coinvolta nell'incidente secondo le prime ricostruzioni l'autovettura a bordo della quale stava viaggiando in direzione periferia la coppia di coniugi per cause ancora in corso di accertamento tra queste c'è anche la possibilità che il conducente sia stato colto da un malore alla guida avrebbe invaso l'altra corsia di marcia impattando prima lateralmente con la lancia y condotta dal 65enne pesarese e poi frontalmente con l'auto dell'uomo residente a pian di meleto lo scontro finale avvenuto con l'ultimo dei tre veicoli in fila diretti verso il centro di pesaro a bordo della quale si trovava il ragazzo rimasto fortunatamente il leso oltre all'arrivo dei soccorsi e della polizia è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti secondo quanto riferito dal pronto soccorso di pesaro i feriti non sarebbero in gravi condizioni su via solferino si sono poi verificati per il resto della mattinata rallentamenti e disagi a causa delle deviazioni imposte per la circolazione degli altri mezzi la mobilitazione nazionale dei trasporti più precisamente dei tassisti ha interessato questa mattina anche la città di pesaro in piazza del popolo infatti erano diversi i lavoratori presenti per rappresentare l'intera categoria la crisi economica generata dal covid dall'emergenza sanitaria di questi mesi ha toccato anche il settore dei trasporti oggi in tutta italia sono scesi in piazza i taxisti per denunciare le difficoltà riscontrate in questo periodo anche a pesaro era presente una delegazione di questo settore questa pandemia non è finita dopo quei dopo i primi 14 mesi c'è un eccesso di offerta noi siamo tanti tante partite ive tanti tassisti nella provincia di pesaro siamo una sessantina il nostro problema fondamentale è il lavoro che ci devono permettere di lavorare c'è un sacco di smart working un sacco di ditte che sono chiuse che non riapriranno treni che arrivano dimezzati dimezzati di numero di capienza locali chiusi coprifuoco che dobbiamo trasportare noi senza contare che questi questi sostegni o ristorio come qualsivoglia chiamare sono insufficienti è un'elemosina chiediamo attraverso al confrattigianato uritax e tutte le sigle sindacali che ci rappresentano fondamentalmente sei punti chiediamo un fondo di 800 milioni di euro per tutta la categoria nazionale a sostegno delle cooperative delle partite ive e del nostro settore chiediamo un anno figurativo un anno bianco fiscale contributivo chiediamo la rintroduzione del detassamento delle accise sui carburanti una sospensione una proroga di mutui finanziamenti e leasing sia sul lavoro che sulle nostre auto una semplificazione da parte dei comuni dei voucher taxi che sono stati istanziati per noi chiediamo inoltre un ecobonus per le auto elettriche per il cambio per il modernamento del nostro settore sulla falsa riga del super bonus del 110 per cento dell'edilizia oggi vediamo a pesaro una manifestazione che però si sta replicando in tutta italia quindi in tutte le piazze italiane c'è questa presenza ordinata precisa secondo le norme ma ferma a chiedere un sostegno importante abbiamo consegnato un documento al prefetto che si farà portavoce delle richieste dei nostri taxi al ministro giannini dei trasporti già ieri c'è stato un rappresentante di confrattigianato nazionale taxi e ha parlato in maniera molto precisa e amichevole con il vice ministro che ha già accolto le nostre richieste oggi però ci sarà appunto questa visibilità che è molto importante per noi per la categoria perché ci teniamo ecco ci teniamo che i nostri associati ma anche gli a tutti tutti quelli che lavorano per il servizio taxi siano ascoltati e sostenuti abbiamo anche chiesto l'ampliamento dei buoni viaggi che per una legge nazionale sono arrivati a tutti i comuni d'italia comuni capoluogo e abbiamo già ottenuto un'attenzione importante da parte del prefetto i buoni viaggio consentono alle persone disagiate le persone famiglie numerose persone ultra settantenne in difficoltà di usare il taxi con questo buono da 10 euro quindi serve per aumentare il flusso del trasporto abbiamo chiesto anche di tener conto delle città non capoluogo fanno per esempio 60 mila abitanti potrà fare anche avere il buono viaggio il prefetto si è preso buona nota di questa richiesta e la porterà al governo ed ora lo spazio dedicato ai dati del coronavirus il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4613 tamponi 2526 nel percorso nuove diagnosi 2087 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 308 pesaro e urbino è la provincia che oggi segna il dato più alto della regione con 95 nuovi casi 10 invece i decessi notificati ieri sera quattro vittime erano residenti nella provincia pesarese ed ora torniamo a pesaro per parlare dell'avanzamento dei lavori alla rotatoria di loreto è in corso infatti rifacimento degli asfalti il cantiere ha però suscitato critiche e indignazioni da parte di alcuni commercianti che ci hanno chiamato prontamente questa mattina quindi siamo andati sul posto li abbiamo intervistato ed abbiamo anche interpellato l'assessore enzo belloni è in via di conclusione il cantiere che renderà definitiva la rotatoria di loreto nelle ultime giornate è stata infatti avviata l'opera di rifacimento dell'asfalto le tempistiche di questo stralcio di lavori e la momentanea sospensione dei posti auto collocati davanti al porticato dell'area hanno però suscitato malumori tra alcune delle attività commerciali della zona come raccontano gli stessi titolari da lunedì abbiamo la possibilità di fare accomodare i clienti all'esterno ma già è qualcosa dopo mesi e mesi di asporto e infatti martedì nonostante il tempo abbiamo lavorato anche se piovesse pioveva la gente si è seduta fuori ha potuto prendere la colazione comodamente seduta poi mercoledì veniamo giù veniamo a lavorare ci troviamo la sorpresa di ruspe e polvere quant'altro tant'è che i clienti quelli seduti i tavolini fuori hanno preso si sono alzati e lì è finita la giornata perché hanno cominciato a rompere polvere e rumore hanno spaccato tutto hanno transennato tutto che quindi quei tre quattro parcheggi che ci avevano lasciato con la nuova rotatoria non sono non si possono utilizzare perché ovviamente ci sono i mezzi di loro dopo mesi e mesi di pandemia no quello che ci è capitato voglio dire adesso ricominciamo un pochettino a sollevare la testa e non potevano fare cominciare i lavori in questi mesi che eravamo chiusi non sappiamo sappiamo quando sono iniziati ma non si sa quando finiscono perché nel cartello c'è scritto di vieto di parcheggio fino a fine lavori col punto interrogativo non si sa nessuno ci sa dare una risposta perché poi quando chiamo in comune nessuno risponde a noi così non lavoriamo due giorni possiamo anche chiudere la porta poi un'altra cosa che ci siamo chiesti perché iniziare i lavori alle sette e mezza quando il boom del traffico si blocca tutto la gente quando alle sei già c'è l'ora di luce voglio dire quindi già dalle sei un'ora e mezza si poteva guadagnare per cominciare i lavori sono già un paio di giorni che c'è il cartello di divieto di sosta pertanto ieri è stata una giornata vuota non è entrato nessun cliente abbiamo perso l'incasso e tra l'altro abbiamo dovuto poi gettare anche il cibo che abbiamo preparato questi lavori già noi abbiamo aperto il 23 gennaio e al giorno dell'apertura già c'erano i lavori in corso dove ci hanno comunque tolto diversi parcheggi e quindi già è una zona difficile da parcheggiare poi da due giorni praticamente impossibile abbiamo comunicato sulle nostre pagine facebook e instagram che provvediamo a consegnare a domicilio per questi giorni dove sono tutti impossibilitati a parcheggiare sulla questione per chiarire i passaggi che hanno portato allo svolgimento dei lavori in queste giornate è intervenuto l'assessore all'operatività del comune di pesaro enzo belloni con questo intervento terminiamo i lavori della rotatoria di loreto sono lavori che durano due o tre giorni insomma sono quelli di finitura che ovviamente si fanno quando si può nel senso ci vuole la temperatura giusta e le temperature si sono alzate da poco perché fino a qualche giorno fa era freddo la disponibilità della ditta perché non è che le ditte che hanno l'appalto poi rispondono presenti li chiami il giorno prima e il giorno dopo intervengono capiamo che ci possono essere dei disagi è difficile andare dietro alle richieste alle esigenze di tutti magari ci chiedono di lavorare la mattina alle 6 poi ci sono quelli delle case che abitano di sopra che dicono cosa fate rumore alle 6 della mattina che dormiamo qui dobbiamo conciliare le esigenze di molti è un disagio ripeto di un paio di giorni e che non potevamo fare prima perché le temperature non consentivano di asfaltare prima i parcheggi sono quelli che erano di progetto ce ne sono due o tre parcheggi in quella zona lì e altri 7 8 davanti alla farmacia quindi che sono a disco orario forse prima come erano prima posizionati i parcheggi con le auto che entravano poi dovevano uscire retromarcia era anche abbastanza pericoloso quindi abbiamo tenuto conto dei pedoni dei ciclisti e della sicurezza soprattutto tra le diverse riaperture concesse dal ritorno delle regioni in zona gialla ci sono anche quelle che riguardano i musei da domani infatti riapriranno al pubblico diversi poli culturali della città di pesaro mentre al centro arti visive pescheria è visitabile già da oggi una mostra per celebrare i 700 anni dalla morte di dante abbiamo quindi intervistato il vice sindaco daniele vimini non vedevamo l'ora è un po tutta la cultura che riparte vabbè le biblioteche con molti sacrifici non si sono praticamente mai fermate ma musei e teatri ovviamente hanno vissuto altri mesi di fatica e ora la settimana buona siamo felici di queste riaperture venerdì un po il giorno simbolo nel senso che riapriranno anche il teatro rossini peraltro poi essendo venerdì 30 aprile anche giornata mondiale unesco del jazz abbiamo scelto di chiedere anche simbolicamente ad artisti pesaresi quindi al peso jazz club di aprire di riaprire il teatro rossini sperando insomma che sia una riapertura lunga insomma senza altri stop e almeno non legati alla pandemia e i musei i musei le mostre i musei civici il museo nazionale rossini la stessa domus di via dell'abbondanza presto colo barone saranno visitabili sarà presto visitabile anche la sonosfera qui stiamo facendo alcuni upgrade tecnici rispetto all'altissima definizione dei video insomma degli schermi che si stanno montando questo ritorno ai musei questo ritorno alla cultura anche una grande operazione non solo appunto di crescita culturale di recupero di tempo perso ma anche un'operazione di fiducia ovviamente rispetto all'oggi della cultura che hanno sempre applicato al meglio al massimo gli standard di sicurezza sul weekend sarà anche di ingresso libero e gratuito potenzieremo in particolar modo la didattica anche per i più piccoli anche per avvicinare sempre di più le famiglie che amano ovviamente i percorsi didattici all'interno dei musei e in tutto questo quadro di riapertura appunto di venerdì 30 alla pescheria come spesso capita insomma come spesso ha fatto nella sua storia anche recente fa da anticipatrice proprio al centro arti visive pescheria ha aperto oggi al pubblico light my fire dante l'arte una lunga storia d'amore la mostra cura di marcello smarrelli che rappresenta una delle iniziative cardine con cui pesaro celebra i 700 anni dalla morte del divino poeta la mostra quindi è aperta da giovedì quindi da da oggi fondamentalmente anticipando le altre aperture e una parte sarà visibile soprattutto col buio dell'esterno perché come dicevamo il percorso di visita sarà costituito sia da salvador delì nella chiesa del suffragio in questo allestimento circolare un po metafisico un po da giro nel dantesco con le 100 tavole che richiamano i 100 canti della divina commedia che in questo loggiato oltre al light my fire che fa da titolo alla mostra dove abbiamo le opere invece di robert rushenberg sull'inferno dantesco e questo video dei clan fontaine questo video altamente suggestivo anche significativo di questo fuoco che pare diciamo bruciare l'europa del sud dei paesi diciamo storicamente più diciamo più alto debito pubblico secondo il fondo monetario internazionale del 2011 sarà visibile anche questo ovviamente con il buio dall'esterno la via cavour quindi creando non solo la mostra ma le vere e proprie stelle urbana dal primo maggio al 24 settembre torna in vigore la zona e stagionale che prevede modifiche al piano di sosta nella zona mare di pesaro a partire dal prossimo mese sarà dunque reintrodotta la sosta tarifata dalle 9 alle ore 21 tutti i giorni festivi compresi in viale trieste nel tratto compreso tra viale della repubblica e via zara e in quello compreso tra viale pola e gorizia e anche in alcune vie perpendicolari per facilitare la sosta residenti dimoranti e lavoratori della zona è stata confermata l'agevolazione grazie alla quale è possibile parcheggiare per l'intero periodo al costo di 30 euro sia nell'area della zona e stagionale sia nel tratto di viale trento compreso fra viale della repubblica e via le fiume i permessi possono essere richiesti negli uffici di pesaro parcheggi nel grande mondo turistico ricettivo rappresentato da conf commercio è da tempo sbarcato anche il settore dei bed and breakfast oggi presso la conf commercio di fano alla presenza del presidente dell'associazione bed and breakfast luoghi di raffaello rossini e vitruvio giuseppe ginesi del presidente federalberghi luciano cecchini del direttore conf commercio amerigo varotti e del funzionario marco arzeni questo legame si è ancora più rafforzato stabilendo una forte volontà di collaborazione con il tradizionale mondo dell'hotellerie e questa nuova componente dell'ospitalità la campagna di vaccinazione il tema dei caregiver e dell'assistenza la questione della solitudine degli anziani accentuata dalla pandemia sono solo alcuni dei punti che saranno trattati durante l'assemblea elettiva di cna pensionati di pesaro urbino che si terrà online lunedì 3 maggio con inizio alle ore 10 il link per partecipare è visionabile sul sito della cna di pesaro cna pesaro punto it e a pesaro torna il mercato dell'antiquariato appuntamento quindi per sabato primo maggio dalle ore 8 e 30 alle ore 14 a rocca costanza il mercato dell'antiquariato di pesaro riunisce da circa 20 anni un numero sempre più crescente di espositori ed ora ci spostiamo a fano dove sono in arrivo nuove risorse per rilanciare il centro storico a partire proprio dalle attività commerciali grazie ad un bando della regione verranno finanziate una nuova segnaletica ma anche alcune iniziative per agevolare la ripresa del commercio vediamo quindi il servizio di simone celli restyling dei negozi carta fedeltà e una nuova segnaletica le attività del centro storico di fano ripartono grazie a un bando della regione dedicato ai cosiddetti centri commerciali naturali nell'ambito del quale la città della fortuna si è piazzata al primo posto ottenendo così un finanziamento di 67 mila euro l'amministrazione comunale aveva presentato la sua proposta in sinergia con confesercenti e fano al centro la nuova cooperativa che riunisce 14 attività del centro storico il progetto è stato portato avanti dal nostro ufficio europa che è veramente molto centrale in questo tipo di progettazione e quindi riesce a tirare veramente dei grandi e degli importanti fondi con una parte ci finanzieremo un progetto per noi centrale perché fa parte anche del piano strategico per il turismo ed è una segnaletica turistica all'interno della città di fano composta da planche planimetriche all'ingresso e da una serie di segnalazioni che indicheranno tutti i punti di interesse turistico più importante della città e per quanto riguarda la parte privata verrà finanziata il progetto della cooperativa fano al centro che è il progetto di una fidelity card che metterà insieme sconti promozioni e comunque una sinergia tra imprenditori della nostra città non sarà solo quello perché saranno anche finanziate alcune attività che hanno fatto investimenti tramite arredamenti ristrutturazioni e quindi soprattutto in questo periodo di covid risulta veramente importante riuscire a finanziare imprenditori che hanno creduto di investire nuovamente sul centro storico sulle proprie attività. Questo è un esempio di sussediarietà sia orizzontale perché c'è la collaborazione con i privati che è verticale, è una collaborazione tra regione, comune e privati quindi dai senso di una concretezza che va a risultato attraverso uno sforzo congiunto di pubblico e privato che hanno come obiettivo quello di rilanciare il centro storico. Rilanciare che non è una parola vuota, bisogna mettersi dentro i contenuti ma soprattutto i soldi e fare in modo che quei soldi siano spesi bene perché sono soldi dei contribuenti far sì che riparta l'utilizzo del centro storico come vero centro commerciale naturale, questo è l'obiettivo la regione ha contribuito con 67 mila euro, un progetto che è partito dal basso che prevede la collaborazione con i commercianti, con una cooperativa che ha coordinato questa attività e col comune per rilanciare, rivitalizzare, rendere più fruibili e anche digitalizzare quella che è la visibilità del centro storico che appunto noi chiamiamo centro commerciale naturale. C'è una riflessione che va fatta sui centri storici che sono una risorsa importante in particolare poi un centro storico come quello di Fano che ha un valore aggiunto per la sua bellezza per la sua testimonianza e per la sua piacevolezza però sappiamo anche che negli anni hanno sofferto molto in modo particolare certe tipologie di attività commerciali allora è importante ripensare, rivedere attività, iniziative, promozioni ripensando anche quelle che devono essere le iniziative a favore di quelli che sono i nuovi bisogni i nuovi comportamenti, le nuove abitudini delle persone. Oggi è una tappa importante perché abbiamo dimostrato che quando si lavora insieme pubblico e privato i risultati ci sono e sono la soluzione migliore per arrivare al risultato ma non ci si deve fermare qua, dobbiamo proseguire, è nostra intenzione mettere ulteriori risorse proprio per fare questo a cominciare da un'analisi socio-economica e quelli di quelli che sono i nuovi costumi per capire come aiutare quei comparti che all'interno dei centri storici soffrono maggiormente rispetto ad altri invece che negli ultimi periodi per le nuove abitudini hanno avuto un incremento significativo. È stato presentato ieri il nuovo sito turistico della città di Vallefoglia si chiama Visit Vallefoglia vi racconteremo meglio nel dettaglio di cosa si tratta nel nostro consueto appuntamento con il Vallefoglia Magazine ma anche in uno speciale che andrà in onda domani, venerdì 30 aprile in prima serata alle ore 21.30 su Rossini TV vediamo intanto un'anticipazione Consiste innanzitutto in dare un logo e un portale che racconta la storia le bellezze ambientali, paesaggistiche i beni culturali, tutto quello che c'è in un territorio come la città di Vallefoglia e pensiamo che possa diventare l'ambiente, il turismo, la storia, i beni culturali il patrimonio naturalistico un pezzo del sistema economico e produttivo che crea lavoro, occupazione, crescita e benessere questo era un territorio tutto agricolo prima che si mettessero insieme questi due comuni Sant'Angelo e Colbordolo in Vallefoglia e poi diventato il territorio dei mobilieri e poi il territorio della lavorazione del vetro della metallomeccanica, della refrigerazione oggi attraverso questo portale pensiamo che debba diventare anche un territorio turistico che è in pezzo del sistema economico e produttivo puntando come vedete il manifesto alle mie spalle nella festa del primo maggio a realizzare la costituzione che metta al centro il tema del lavoro, del benessere, della crescita e della piena occupazione Soprattutto in un periodo come questo dove il settore turistico è quello che ha sofferto maggiormente? Ma abbiamo sofferto tutti certamente il turismo è quello che ha sofferto di più pensiamo che si possa riprendere naturalmente come abbiamo detto tutti i giorni quotidianamente rispettando le regole evitando assembramenti mantenendo le mascherine igienizzazione le cose che sappiamo sperando che con una vaccinazione a tappeto si possa ritornare già dall'estate in una situazione di normalità ecco questo è un obiettivo e una novità perché non c'era un portale turistico con un logo turistico che ci distingue da altri territori anche delle marche della nostra provincia e pensiamo che questa sia una cosa buona per far conoscere le bellezze della città di Vallefoglia Il sito è strutturato per essere facilmente navigabile per trovare tutte le informazioni nel più breve tempo possibile nell'essere immersivo anche nell'abbinamento con delle grandi immagini e una selezione di immagini che potessero rappresentare al meglio quello che è poi il territorio e quelli che sono i testi di Alessandra Mindoli è facilmente utilizzabile abbiamo pensato per tutte le fasce di età e comunque da dispositivi sia desktop che mobile Sul sito si troverà un menu dove si può navigare in tutte le categorie nelle sottocategorie è possibile tradurre il sito in diverse lingue e quindi dare la possibilità anche ai turisti di poter tradurre velocemente i testi e nella home page troviamo un riassunto di tutte le varie categorie e poi c'è una parte del blog dove ci sono degli approfondimenti su tutti i personaggi illustri su tutti i paesi, i nostri borghi e tutte le caratteristiche più diciamo curiose e importanti anche del territorio e questa sera chiudiamo il nostro telegiornale con una pagina sportiva una pagina molto importante perché ecco è finita ieri con una grande vittoria la partita dell'Ital Service Calcio a 5 che ha debuttato con l'acqua e sapone vediamo quindi il servizio di Edoardo Razzi vincere aiuta a vincere l'Ital Service Pesaro lo sa e lo sta dimostrando dopo il trionfo di domenica in Coppa Italia ieri sera i biancorossi hanno sconfitto fuori casa per 3 a 2 l'acqua e sapone allungando sui diretti avversari e chiudendo al primo posto in campionato con una giornata di anticipo la partita ha visto sfidarsi le prime due squadre della classifica in quella che potrebbe essere stata l'anticipazione della finale scudetto con il successo di ieri l'Ital Service ha ottenuto la dodicesima vittoria consecutiva in campionato la diciannovesima su 25 partite dimostrando di essere pronta e attrezzata per provare a vincere il secondo scudetto di fila una vittoria importante quella ottenuta a Pescara perché oltre ad assicurare ai biancorossi il primo posto gli permetterà di avere il fattore campo durante i playoff sabato 1 maggio Pesaro è pronta ad incontrare il Kamedosson per l'ultima giornata di campionato il match verrà trasmesso in diretta su Rossini TV a partire dalle ore 18 con i playoff che partiranno l'8 maggio il finale di stagione entra nel vivo e l'Ital Service vuole farsi trovare pronta e allora davvero complimenti all'Ital Service Calcio a 5 si continua a parlare di sport su Rossini TV questa sera perché torna una nuova puntata anzi la penultima puntata di Insieme a Canestro questa sera alle 21.15 gli ospiti saranno Tyler Kane pivò della Carpegna Prosciutto poi ci sarà Stefano Carloni che è amministratore delegato di NTS Informatica non mancherà Elisabetta Ferri giornalista e opinionista ed avremo anche German Scarone ex giocatore della VL e poi questa sera uno spazio in seconda serata alle 22.15 dedicato a Webbo si parla di musica di qualità non perdetevi questo appuntamento domani invece è la volta di una nuova puntata di Casa Rossini Casa Rossini che andrà avanti per tutto il mese di maggio gli ospiti domani saranno Mirko Carloni che è assessore e vicepresidente della Regione Marche e poi ci sarà Lucio Zanca che presenterà il suo libro Welcome to the Jungle e poi Ioanna Perakis che è insomma un'artista molto creativa quindi l'appuntamento a domani alle 10 in diretta e sempre domani ma alle 7.20 in diretta non perdetevi la nostra rassegna stampa la lettura dei quotidiani locali come sempre dal lunedì al sabato quindi non perdetevi l'appuntamento grazie mille a tutti voi che ci avete seguito anche questa sera vi auguro davvero una buona serata grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti